Assessore Sant'Angelo, parliamo del progetto Accessor di finalità e obiettivo. Un progetto importantissimo, volto all'inclusione sociale, all'indipendenza delle persone, in collaborazione con l'ENSE, l'ente nazionale sordi italiano. Abbiamo sviluppato una progettualità come Regione Abruzzo, che renderemo la vita delle persone più autonoma, attraverso l'utilizzo anche della tecnologia negli ospedali, nei punti di accesso di tutta la Regione Abruzzo degli ospedali, in particolare i CUP e i pronto soccorsi, immaginare che le persone debbano essere più accompagnate. Poi faremo dei corsi di formazione al personale interessato interno della parte ospedaliera, rivolto alla formazione della LIS e della LIFT. Questo progetto nasce da una collaborazione fattiva, vera, tra l'ente, l'assessorato regionale delle politiche sociali e l'ENSE. Nei giorni scorsi lei aveva presentato un progetto che riguardava lo stanziamento di fondi per la disabilità grave. state investendo sempre di più in Regione per chi soffre. Beh, questo è frutto di una programmazione che viene anche da lontano, ma sul caregiver abbiamo messo oltre un milione di euro per le famiglie con minori con disabilità gravissima. Questo è un segnale di attenzione perché è unica in Italia questa misura con questi importi così importanti. Quindi continuiamo a rendere la Regione Abruzzo più accessibile e più a portata di cittadino. Grazie. Grazie.